La svolta per chi come me non ha voglia di tagliare la verdura Ragazzi, fa tutto da solo Ma la comodità In più ci sono tantissime testine per altre verdure, per il parmigiano eccetera Questa è scontatissima per il Black Friday, vi lascio qua il link Questa da avere Allora, la desideravo da tantissimo tempo l'estrattore che fa molto meglio della centrifuga Ci sono un sacco di estrattori scontatissimi Io vi lascio qua il link con una selezione E questi fanno bene, come ho detto nel Reel Alla nostra pelle, alla salute Se siete incinte al bambino, soprattutto se siete pigni Non avete voglia di tagliarvi la frutta, la verdura Buttate qua dentro tutto, limone, zenzero, parole Vabbè, il mitico tritatutto di Giulio Salami Ditemi come fa a avere tutta questa energia molto molto più di me Un bacione grande al prossimo video, ciao